Torna in campo domani il tennis club Sciacca che a Palermo proverà a staccare il pass per la finale del campionato regionale over 45. Il club, presieduto da Vincenzo Sclafani, giocherà sui campi in terra rossa dello Sport Village nella semifinale regionale. Difficile ma non impossibile il passaggio del turno. In caso di vittoria la squadra saccense però giocherebbe a malincuore l'eventuale finale a Menfi vista l'impossibilità di scendere in campo sui nuovi terreni di Sciacca ancora non omologati dalla Federazione Italiana Tennis. In caso di passaggio del turno il tennis club Sciacca affronterà in finale in casa la vincente tra Siracusa e Vella Messina. Il team saccense, capitanato da Pier Giorgio Puliti, è composto da Enzo Colletti, Franco Sclafani, Pippo Venezia, Totò Caracappa, Andrea Di Giovanna e Calogero Termine. Oltre alla fase regionale, come è noto, il sodolizio saccense si appresta a disputare anche i sedicesimi di finale del tabellone nazionale contro il forte tricolore Reggio Emilia. Una bella vetrina per un club che ha superato con merito e con numerose vittorie tutte le fasi preliminari. Per quanto riguarda infine il torneo regionale di terza categoria organizzato dal club di Favara, il seccense Domenico Caracappa, giocatore e maestro del tennis club Sciacca, ha vinto ai quarti di finale del torneo contro Antonino Armenio, tecnico della società Passione Tennis. Oggi la semifinale di Caracappa contro Gabriele Bosco, coriaceo giocatore del circolo di Favara. Le soddisfazioni nel torneo arrivano anche da Cristian Fanara, che si arrende soltanto a terzo set contro l'esperto e forte Alfonso Palmisano.